E' stata una domanda sul finire del confronto tra i candidati sindaci, La Porta, Mutalipassi, Pesce e Serra, organizzato in collaborazione da Cilento Channel e Info Cilento, a dare una svolta in attesa a questa campagna elettorale. Ho messo in lista anche i miei familiari perché alcuni candidati sono stati minacciati e costretti a non candidarsi a poche ore dalla presentazione delle liste. E' questa la grave accusa che Elvira Serra ha lanciato ieri sera e che accende i riflettori su pressioni che sembrano non estrane, nemmeno questa volta, alla campagna elettorale agropolese. Un confronto che fino a quel momento, grazie anche al rigido protocollo condiviso precedentemente tra le redazioni giornalistiche e i candidati, ha consentito di far emergere per ciascuno di loro le diverse sensibilità su temi cruciali quali lo sviluppo, la sanità, la sicurezza e il decoro urbano. I candidati, incalzati dai giornalisti Raffaella Giaccio, Sergio Pinto, Vitorizio ed Ernesto Rocco, hanno così avuto modo di spiegare ai cittadini le rispettive priorità programmatiche. Non sono mancate anche le note di colore, abilmente raccolte dal moderatore Arturo Calabrese, con domande pungenti fatti anche dagli stessi candidati che hanno avuto modo di provocare i rispettivi competitor su temi caldi e anche sui loro rapporti personali. Un confronto stimolante che sottolinea l'importanza del servizio pubblico reso dalla corretta informazione e che ha visto in questa importante sinergia tra le due maggiori testate giornalistiche agropolesi, un modello da replicare anche per il futuro.